venditalia 2022 continua non c'è edizione di venditalia senza l'intervista allo stand spinel con cesare spinelli a cui do il benvenuto cesare bentornato qui con noi dopo ben quattro anni e benvenuto a te nel nostro stand benvenuti gli aspetti telespettatori insomma gli amici di vending news si sono spettatori telespettatori ma alla fine il nostro è un club molto allargato costituito da detti ai lavori ma anche e soprattutto amici che fanno gestori costruttori tutto ciò che fa vending cesare sono quattro anni che non c'era un incontro diretto con il popolo del vending che cosa è successo in casa spinel negli ultimi quattro anni e dunque che cosa avete presentato in questa edizione 2022 di venditalia innanzitutto è bello rivedersi bello rincontrarsi anche la visita la fisicità dell'incontro ci mancava e questa è la cosa più importante grande entusiasmo grande presenza molto siamo molto contenti di del ritorno di venditalia in presenza quattro anni sono stati lunghi e difficili faticosi però anche importanti perché ci hanno permesso di rivisitare la gamma dei prodotti di renderla ancora più accattivante e di studiare soluzioni tecnologiche che poi vanno al servizio e risolvono i problemi dell'operatore professionale e allora passiamo proprio alle novità presentate da spinel a questa edizione 2022 di venditalia beh soprattutto ciao il modello di punta che come al solito si si veste di nuovi colori quindi una gamma colori più fresca più dinamica più accattivante che si adatta alle cucine moderne e poi anche delle innovazioni tecnologiche in quanto il gruppo ciao è stato adattato a diverse tipologie di capsule oltre alle capsule fap e alla cialda tradizionale abbiamo realizzato il gruppo per la capsula a modo mio per la capsula firma e per la capsula nespresso professional ma non finisce qui beh certo è l'occasione di venditalia è importante perché noi abbiamo presentato il restyling della macchina pinocchio pinocchio è la macchina tra virgolette più vecchia ancora in produzione della gamma della gamma spinel stiamo parlando di un modello che ha fatto la storia della dell'azienda molto apprezzato sui mercati internazionali anche diciamo sui mercati che preferiscono e vogliono il made in italy 100% e si veste di una nuova estetica con degli accorgimenti che la rendono ancora più accattivante e ancora più performante e vicina alle esigenze del consumatore e del cliente una particolarità è anche l'adattamento del gruppo la capsula dolce gusto e allora cesare voi avete tanti agenti in italia e servite quindi in modo anche abbastanza capillare il popolo del vending tuttavia io dico sempre che c'è la maglia che si smaglia e dunque se qualcuno desidera entrare in contatto con voi qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere si può scrivere a spinel.it come il sito è spinel.it e info chioccio la spinel.it è il nostro indirizzo di posta elettronica andate a visitare il nuovo sito che è innovativo con delle soluzioni al passo con i tempi sul nuovo sito potrete apprezzare la realtà virtuale o le macchine le potete toccare con mano seppur stando comodamente a casa dal nuovo sito si può accedere al portale per l'acquisto dei ricambi online e quindi ancora più vicino, pur da lontano ancora più vicino al cliente. Siete avanti, siete avanti. Sì sì e per i prossimi mesi, per noi il venditalia non chiude oggi, siamo all'ultimo giorno ma continua perché si potranno apprezzare le nostre novità sul nostro portale e sulla fiera online. Grazie, grazie Cesare per il contributo, ci risentiamo e rivediamo prossimamente magari in uno dei nostri Vending Focus, gli speciali che stiamo andando a realizzare periodicamente su Vending TV e Vending News i collegamenti virtuali attraverso il nostro studio televisivo per riuscire a dare man mano tutte le novità da proporre al popolo del Vending. Sì Fabio ti aspetto virtualmente ma ti aspetto anche fisicamente perché ti voglio anticipare e lo vedrai di persona il futuro di Spinel è stato avviato la costruzione del nuovo stabilimento, stabilimento di 5 metri quadri in ottica industria 4.0 quindi realizzeremo la fabbrica intelligente di macchine a caffè a cialde e a capsule. Allora non so quando sia prevista l'inaugurazione perché è davvero una grande novità di cui non mi avevi parlato, ci sarò. Bene, come al solito le sorprese non mancano e quando sarà il momento sarai uno dei protagonisti. Benissimo, grazie e noi renderemo protagonisti tutti voi della Spinel attraverso le telecamere di VendingTV.it su VendingTV.it e VendingNews.it naturalmente. Ciao Cesare, grazie. Ciao a tutti, arrivederci, ci vediamo a Trieste Espresso. Grazie a tutti.